Passa da Gela un pezzo della Via Francigena di Sicilia che un gruppo di studiosi hanno riportato alla luce. Grazie alla sinergia tra Cantiere Gela, la Casa del Volontariato e la Piccola Casa della Divina Misericordia, la città gelese offrirà ospitalità a dieci pellegrini in cammino già da alcuni giorni. Con la collaborazione della Proloco Gela e dell'Associazione Geloi Trischelion si getteranno le basi per segnare tramite apposita segnaletica il percorso litoraneo della Via Francigena che passa da Gela e il supporto logistica ai pellegrini. Il gruppo dei camminatori della Via Francigena di Sicilia sarà accolto oggi dai volontari della Comunità Urbana di Cantiere Gela e sarà ospitato per una notte presso la Casa della Divina Misericordia. Alle 17 arriveranno in città, alle 18 saranno in Piazzo Umberto I e alle 19 è previsto l'incontro presso la Piccola Casa della Divina Misericordia. L'occasione servirà per fare il punto sulla Via Francigena in Sicilia e sulla tappa di Gela per provare a tracciare il percorso come avviene in altri paesi del mondo dando informazioni e supporto logistico ai pellegrini che decidono di mettersi in viaggio alla scoperta degli altri e di se stessi.